basta con lo stress da ufficio cps computer dona una nuova luce al vostro lavoro con i nuovi computer ibm versatili professionali e da oggi così accessibili come i nuovi meravigliosi telefax canon indispensabili per chi lavora con dinamismo per non parlare delle moderne e rapidissime fotocopiatrici canon insomma a conti fatti rinnovare l'ufficio con macchine arredamenti della cps computer è un'idea rilassante